Attenzione Noo che aborto! Dio che schifezza! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo dodicesimo episodio di Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke Nello scorso episodio abbiamo perso purtroppo il... purtroppo, questo qua è il mio difetto Il mio grandissimo amico Randall contro il capo palestra di tipo spettro che in realtà non era di tipo spettro ma aveva i Pokémon di tipo spettro che in teoria erano di tipo terra Dato che ci ho utilizzato Destiny Bond e come sostituto ho scelto Divi Move Mi è stato consigliato da qualcuno, in altri mi avevano consigliato Wayne, altri Kelly Alla fine ho scelto Divi Move perché secondo me è il Pokémon diciamo più adeguato alla situazione E comunque oggi andremo ad affrontare la palestra di tipo elettro Sperando che ci sia il capo palestra, io non lo so In palestra si può entrare ma non so se esista il capo palestra Comunque signori miei Ehm... a parte il fatto che mi vedete in felpa dopo tantissimo tempo E... ok cosa devo fare io qua? Non ne ho idea Ma tipo premere cose Ehm... non è che mi devi dire qualcosa No eh Ehm... bello si io so cosa fare mi dicono Eheh... bello Oh perfetto Ottimo ed è così semplice, dubito Ehm... no appunto vi stavo dicendo signori miei che Mi vedete in felpa perché sta cominciando a fare freddino Levati cursore Ehm... fatemi sapere com'è il clima da voi E dove abitate soprattutto Tranquilli non vengo a cercarvi In ogni caso signori miei Ehm... benissimo Mh... la mia vita non ha più senso Ok immagino che dovrò andare da qualche parte Ed educo la centrale che abbiamo visto nello scorso episodio Signori miei non sono ancora completamente guarito in realtà Ho ancora un po' di mal di gola e di raffreddore Però frega cazzi ero comunque in condizioni Registrare Chi... chi... per... perché tu? Lulugia si si giusto Ah sei bello 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 davvero Crunch E' super efficace ma non fa niente perché giustamente Ehm... il nostro caro amico Divimove è fisico E in questo gioco le mosse di tipo ombra sono buio non ombra Sono speciali E quindi se lo prendo un po' in quel posto Però comunque vedete che riesce ad aprirle abbastanza bene Comunque si l'ho allenato al 45 non troppo Ehm... che dire Spero che questa serie vi stia continuando a piacere Supportatela con un bel mi piace rispondendo alla domanda del giorno Speriamo di non perdere troppa gente Magnitudo 8 devi stare fermissimo E quindi proseguiamo Siamo in questa centrale elettrica Ah eccolo qua il popolestre Perfetto l'abbiamo già beccato E oggi signori miei tra l'altro contro ogni aspettativa mi sono munito di tè Incredibile Lo apriamo subito signori miei? Cioè stavo commentando l'apertura del tè come se fosse capito un gameplay Cioè pensate come posso... Ok fermi tutti Lo sostituisco lo sostituisco Ho capito Bastava dirlo che dovevo sostituirlo eh Flamethrower e ammazzati No come hai retto Cioè come è possibile nella logica umana Ok Octillery mandiamo Eh io manderei Randall Però sapete com'è C'è morto nello scorso episodio Tra l'altro dopo che Cioè appena prima di ottenere la pietra tuono Ottimo Grazie per il troll Non mi sfiderà anche a buo palestra vero? È pronto Ora dobbiamo riconnettere le turbine E l'energia riprenderà funzionale Finalmente l'energia è tornata Perfetto Torna nella palestra che ti devo aprire Si spera E quindi direi di avviarci subito alla palestra Investendo gente a casa Utilizzando il velocizzatore Eh no Dov'è il centro pokemon? L'ho già perso Perfetto Curiamoci i pokemon E direi che possiamo andare a affrontare la palestra Tra l'altro devo registrare abbastanza in fretta Perché dopo questo video Dovrò andare a fare la battaglia Con l'inscritto su showdown E devo riscaricarmi skype Devo farmi il team Poi dovrei anche studiare scienze Ma quella mi sa che passerà in secondo piano Come al solito E nulla Adesso dovrò rifarmi tutto il tragitto Affrontando però anche gli animatori Che bella la vita Devi stare fermo Oddio john frog Lui ci copia raga Hashtag Scienziati copioni Eh ok perfetto Mi devo ricordare che devo premere sti cosi qua Ma se tipo prima premessi il coso Poi Perché c'è questa cosa qua Capite che Mi fa girare abbastanza il cazzo In senso anti orario Come se fossi a trieste Durante il periodo della bora Perché eccolo qua L'abbiamo chiamato Perfetto Mi ha addormentato Uh è vero che c'ho muta È vero che c'ho muta Mi stava per ammazzare Cioè E io così tranquillo Che parlavo di mute No Cioè Trovo sinceramente Insensato Il fatto che io debba premere dei pulsanti Per proseguire Che poi sostanzialmente Non serve una nulla Perfetto Ottimo lavoro Divi move Che sbatte contro i muri Dai uccidilo Ole Gesù Cristo fatto a Pokemon Muori E la madonna Quanto regge sto cosa Ole Perfetto E giustamente mi direte voi Uno Steelix Ok Perfetto Possiamo proseguire Madonna però Datemi il tempo di muovermi I jump kick Cioè Divi move Ha già rischiato di morire Dieci volte in sto episodio Madonna Come fa a far così tanto Un thunder shock Cioè Se sto qua avesse thunder Mi distrugge Se avesse thunder Mi distruggerebbe Sì Viva l'Italia No Toxic però Figliolo caro Baciato dal sole Toxic Non te lo concedo Dove Tra l'altro Li ho tutti i rimedi Tutti li ho Qual è che non ho Ovviamente Quello per il veleno Che vita Che vita bella Ma non è che ho tipo Un No perfetto Devo uscire a comprarle È giusto È giusto È giusto È tutto bello È tutto bello Intanto no Forse dovrei Dai cazzo Mi sta morendo il Pokemon Tra l'altro Chi è che ha avvelenato Tarzan tipo Allora fermi tutti Diamo a cercare il centro Il Pokemon Market Ho appena compenetrato Una parete del Market Bellissimo E andiamo a prenderci I antidoti Tra l'altro abbiamo Tantissimi soldi Alla faccia di chi mi dava Del povero A inizio serie Mi piglio anche delle Ultrabol Così dal nulla Iperpozioni Ne ho sprecato un po' Ne prenderei 9 Perfetto Il resto dei soldi Lo teniamo Perché ci servono Per la Reflex Cheat Proseguiamo Proseguiamo Siamo a 6 minuti e 29 Intanto c'è un uomo Che fissa attentamente Un faro di fianco Alla palestra Farete schifo E io cosa ci devo fare Se fate schifo C'è poco da fare No Allora Ecco no Da qua non li avevo ancora affrontati Già Già un bluff Dio mio che cancro Muori No paralizzato Vero che muta funziona Vero che muta funziona Vero che muta funziona Vero che Vero che faccio schifo Dai IDV move Oh bravissimo Ninetase Switchiamo Mandiamo L'eroe John Frog Finalmente in campo Alla sua forma 100% Surf E vabbè Cosa ci dobbiamo fare Raga Comunque Inception C'è John Frog Che butta giù Il mio Pokémon preferito Questa qua È tanta roba Questa scena Mamma mia Proprio da Film horror Cosa sto dicendo Ti prego Fammi affrontare Il campo palestra Se no qua Impazzisco Ok Questo qua Avrà i Pokémon Di quello di prima Perché c'è L'originalità In questa Chrome Polivrat I jump kick Muori E del resto Come faccio a ucciderlo Sei John Frog Ma tu sei il John Frog Cinese Via Crowdant Perfetto Ecco la cosa Stronze Che quando mi mandano I Pokémon Con prepotenza Io Muoio Allora Capiamoci eh Tu devi morire Ok Perfetto Steelix I jump kick Madonna Gli faccio nulla C'è avete presente Il vuoto cosmico Rage Rage quitto Se non te ne vai Olè Perfetto Adesso in teoria Dovrebbe esserci Il campo palestra Sì Perfetto Ma tra l'altro Questa è la nostra Sesta medaglia Attenzione signori miei Pronti tutti Benvenuto Alla palestra Di Serenity City La città La palestra Della città Della luce Madonna Proprio Poco egocentrici Questi Questa palestra È specializzata Nell'elettricità Con il campo palestra Ti affronterò Sì qualcosa Mi dice che non è Esattamente specializzata In Pokémon Di tipo elettro Questo è decisamente Un Pokémon Di tipo elettro Risaputamente Tipo elettro Il grande Goldack Che spero faccia Una fine di merda Olèi Perfetto Divi move Livello 50 Medicham Voi dovete sapere Che per chi Per i vecchi iscritti Si ricorderanno Il Medicham Di Mega Power Cioè Quanto era forte Quel Pokémon Con un hijab kick Ti buttava giù Pure la famiglia Muori Che poi mi fa Che poi mi fa La mossa Z Questo Menafi 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 Va giù No Regge Se mi fai Geloraggio Ok perfetto No è stupido Fa Bubble Beam Io sono ancora più stupido Che non lo shot Ok perfetto L'abbiamo vinta 30 punti esperienza Non 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 Troppi Mi raccomando Ok possiamo utilizzare Volo fuori dalla battaglia Quindi deduco che volo Lo terremo a breve Abbiamo ottenuto Thunderbolt Bucefalo Eh si ma bucefalo Non ha un attacco speciale Sai com'è No un'altra cosa Che volevo dirvi È che incredibilmente Mi vedete pettinato Quest'oggi Si perché la mattina Adesso io ho più tempo Quindi prima di andare a scuola Mi pettino Col gel Di conseguenza Poi la pettinatura Rimane un po' Per tutto il giorno Ergo signori miei D'ora in poi Probabilmente mi vedrete Più pettinato Del solito Spero siate felici E lasciate un like Per la pettinatura Del creepy Comunque io in realtà Se devo essere sincero Non so dove cazzo Devo andare Ok E la città Non l'ho nemmeno Tanto esplorata Quindi direi di esplorarla Adesso Un miracle seed Perfetto Questi qua ragazzi Ce li teniamo tutti da parte Come strumenti Così poi Quando affronteremo Se affronteremo la lega La potremo affrontare Perfetto Abbiamo ottenuto volo E ora che ci penso Io non ho un pokemon Che può usare volo Comunque prima o poi Lo troveremo Tanto prima o poi Qualcuno ci schiatterà No Ehm Dicevo appunto Sì gli strumenti Li darò Appena prima Cos'è che voglio scambiare? No torna qua Torna qua Eeeh Vieni qui C'è la mamma puttana Eh non ho sense Drew Per un graveler Che si evolverebbe in golem E appunto Gli strumenti Li utilizzeremo la lega Per diciamo Essere avvantaggiati Ma per ora Dato che voglio allenare i pokemon Passerò al fortu nuovo Avete visto comunque Che questa Ehm Cosa che vuoi? Ah ok Il move the later Perfetto Tu Potresti essermi utile Sì ma in futuro Ehm Nulla Fatemi finire Il maledetto discorso Questa è chiusa Ehm Gli strumenti Li utilizzeremo Alla lega Perché per ora Voglio allenare i pokemon Col fortu nuovo Una strategia Che appunto Sta dando i suoi frutti Dato che abbiamo sempre i pokemon Comunque a dei livelli decenti A meno Così mi sembra Forse addirittura In alcuni casi troppo alti Allora Prima di proseguire Fatemi trovare una mappa Per piacere Datemi una mappa E vi solleverò il mondo Se lo prendo a schiaffi Quello operaio Ecco Creepy stories Non sa centrare le porte I centri poco Perché dovete sempre Etervi in mezzo Di qua c'è il monte Ice Storm E di qua c'è Drake Brief City Ma sapete che Sinceramente Non so dove devo andare Io provo ad andare A Drake Brief City Che mi ispira come nome Nuovo percorso Means Nuova cattura Attenzione Noo Che aborto Dio Che schifezza Un santo cielo Questo mi fa proprio schifo Ti prego Entraci Ok Un Kecleon Come cazzo lo chiamo Un Kecleon Spiegatemi voi Color swap poco Un camaleonte Lo chiamo Lo chiamo Lo chiamo Geco Giusto No Come cazzo si scriverà Aspetta Si scrive Ze Zeco Ok Perfetto Ce l'ho Geco Perché assonanza Con Geco E poi c'è tipo Quelle muovenze da mummia Che ricordano molto Il centro avanti Della Roma Che fa abbastanza schifo Eh No 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 Torna qua C'era anche Eh ad esempio Roselia Non avrebbe fatto Troppo schifo Sooner or later You will see The daycare center It's a place Where you can leave Your Pokemon To reset And get stronger Shish Marip Perfetto Roselia Ok ovviamente La randomizzazione È andata A farsi benedire Perché Dovete sempre Essere in mezzo Ok Iniziamo ad affrontare Allenatori Conto di arrivare A La città Di cui già mi sono dimenticato Il nome figo E poi stoppare L'episodio No ho sbagliato mossa No è E godo tantissimo Madonna raga Questa Questa abilità di Divi move Mi la adoro Due ivi Nell'arco di pochissimo tempo E non era nemmeno Voluto dal randomizzatore Livello 51 Per divi move Rock climb Sarebbe Eh si Al posto di crunch Raga Al posto di crunch Perché è veramente Una mossa Non so se vi ne siete accorti Ma è scarsissima Light ball Un'altra Questa qua Cos'è che era Light ball La Elettropalla In italiano Sì Tu Che ce n'è You must Ammazzarti Ah ok Sta parte qua È palesemente Raga È palesemente Quella di Owen Quella Tra ciclamipoli E mentagna Cioè lei Praticamente C'è la stessa Conformazione geologica Bronzong vai giù Ivy muori pure tu E abbiamo battuto Mira Sofia Ti ho Ammazzato Il wild Vabbè Proseguiamo Perché qua Stiamo Cadendo ai limiti Della decenza Tra l'altro Bellissima sta Quello è uno stunky Sì Non sembrava Ti giuro È left Nidoran E avranno trombato E che cosa strana Ok Super potion Adesso signori miei Ci sarebbero Volendo tutte quelle battute Divertenti Sul fatto che Alla Pensione I pokemon Fanno quelle cose lì La gente non sa dove sono Le uova Cioè non sa come Arrivano le uova Ma tutti in realtà Lo sappiamo come è possibile Quindi potrei cominciare a fare Però non lo farò Vieni qua Cosa vuoi Ok perfetto Però sapete che Se ci fosse un pc Io alla pensione Lascierei qualche pokemon No Allora per ora no Però penso di portare Qualche pokemon Qui così A sto punto Tanto non ci perdo Assolutamente nulla Porterò dei pokemon Li lascerò qua La pensione In modo tale che crescano Nestball La Escaball No La Minorball Minorball Nestball Sapete che non ricordo Aspettate Controllo finita A questa battaglia Perché Sussia deve aprirli tutti Geodude ma tanto ti uso Flamethrower Muori lo stesso perché fai schifo Braviari Dio mio quanto odio Questo pokemon E veramente Lo odiavo Cioè è bellissimo Però lo odiavo In competitive Perché mi faceva sclerare Fatemi vedere Sì 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 Perfetto La Nestball E la Minorball Ho avuto un attimo di dubbio Se fosse la La Minorball appunto O la Escaball Ah ottimo Quindi da Da questa parte Non si può proseguire Ottimo lavoro Creepish Stories Sempre le scelte migliori Quest'uomo Mi dicono E nulla A sto punto Andiamo dall'altra parte Troppo poco Il tempo Per concludere L'episodio Mi gratta Il naso Perché Forse perché Sono raffreddato Potrebbe essere un'idea Gala madonna Siete già qua E a sto punto Però sapete che A saperlo Che Il percorso Era prendibile Anche dall'altro lato Cos'è successo Perché mi sono addormentato Mi avrà usato Sbadigli Porca puttana Shadow tag Ok Aspettate Psy up Shadow ball Ok Future site Ma ammazzati Smog No dicevo Se avessi saputo Che il percorso Era prendibile Anche dall'altro lato Forse avrei catturato Il pokemon In un altro momento Però vabbè Ormai Trash Madonna L'ho quasi shottato Ahia È vero che c'era Future site Madonna Mi sono dimenticato Ok Tra l'altro Ho già perso un poco Mi pare per Future site Non mi ricordo In quale challenge Però non sarebbe La prima volta Che lo prenderei In quel posto Per colpa di Future site Allora Proseguiamo Ah c'è da usare surf Che bella la vita Perf Madonna raga Che cosa bella Ma tra l'altro Questo cosa sarà Nuovo percorso Fatemi vedere Cioè Penso di sì E infatti sì È percorso 413 Siamo già arrivati di qua Tra l'altro Cioè noto con piacere Che Cioè con piacere Che i poco Nell'acqua Non si trovano Nel senso che Ho controllato Un botto di volte E boh Non li ho visti Vabbè Forza su questo Shimeon Ovviamente smetto Di fare commenti Sul fatto che Trovo solo Dei Uh Snover Che trovo solo Appunto Dei Come si dice Dei leggendari Perché tanto Ormai Cosa ci devo fare Ho capito che funziona Così E così me li tengo Today I'll train here It's nice and quiet Bene Io oggi faccio la cattura Qui Che aborto Fatemi usare la netball Vi prego Perché c'è lo spread Di nascurable Se è una netball Ma perché Oh Pip Lo chiamo Non lo so Devo dargli un nome Lo chiamo Eutanasia Lo chiamo Perché quando lo vedo La vorrei fare L'eutanasia Via Eutanasia Che schifezza Proprio ma la vita Fa schifo Ok che l'alternativa Era stunchi E va bene Ok che Faceva cagare Pure lui Ecco però ad esempio Jungle avrei preso Volentieri Jungle avrei preso Davvero volentieri Sarebbe il ritorno Di giovanotti Raga Strength Namel va giù Perfetto Executor Va giù pure lui No Hypnosi Oddio esiste ancora Attacco pioggia Madonna Attacco pioggia È la mossa più ignorante Del secolo Eevee È il quindicesimo Eevee Che vedo in sta parte Che è sta storia Allora dai E proseguiamo Vorrei arrivare Per lo Urku giù da schermoli L'avrei preso Centomila volte Cos'è che volevi Non lo so Non lo so Non ti ho ascoltato Eeeh Penso che siamo arrivati Al All'entrata del monte Eeeh Boh Non so sinceramente Se stoppare Cazzo che è Ah cucchiaio torto Sì 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 Twisted pun Perfetto Questo qua è il monte Ice Coso vero Massimo 18 minuti Raga direi di Entriamo nel monte Facciamo la cattura E stoppiamo Dai Così lo facciamo Nel prossimo episodio Perché secondo me Se entriamo qua dentro Un casino Snorant Eeeh Eh Snorant Snorant Vabbè io lo prendo Ovviamente raga Però Sapete che non lo otterrò Molto in squadra Tra l'altro le catture Qua stanno andando Come se non ci fossero domani Eeeh Come lo posso chiamare Sto coso Lo chiamo Ehm Vabbè è un triangolo Lo chiamo dai Faccio Illuminati Ah 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 Non Cos'ho scritto Ma minchia raga Cos'ho scritto Uccidetemi Illuminati Illu Mi Na Ti Olè Perfetto Bene Direi di uscire dal mondo Signori miei E di concludere qui L'episodio Che per oggi È un pochino più corto Ma piuttosto che farne uno Da 35 minuti Ne faccio uno da 20 Spero che vi sia piaciuto Se così vi invito Come al solito A lasciare un bel mi piace A commentare E a iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Passate dai social In descrizione E rispondite Alla domanda del giorno Che sarà qua sotto Nella sidebar Detto ciò Noi ci becchiamo In un prossimo Video Noi ci becchiamo Grazie a tutti